Persa di fatto la Crimea, c'è tutto un est dell'Ucraina dove il sostegno al regime passato e le simpatie per Mosca pesano. Donetsk ne è l'emblema. Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha incontrato il governatore della regione Seri Taruta, portando il sostegno di un occidente timoroso di un escalation della crisi. Abbiamo avvertito con grande chiarezza oggi il forte desiderio che la nuova Ucraina sia un'Ucraina unita, senza alcuna rottura. Steinmeier ha visto anche il premier Yatsenyuk assicurando l'aiuto della Germania nella modernizzazione dell'esercito ucraino, Mentre il rappresentante del governo tedesco incontrava le autorità locali, però almeno 2000 persone hanno manifestato sventolando bandiere russe e mostrando foto del deposto presidente Viktor Yanukovic, spingendosi fin sotto la sede del governo regionale.